Buongiorno a tutti, sono Enrica Maggi e mi trovo oggi nel mio studio di Clagen, furto insieme ad una mia cara amica, la dottoressa Natascha Zmerzlicka, che è responsabile per gli insediamenti aziendali e progetti UE dell'Interporto di Furnitz. Ciao cara Natascha! Ciao Enrica! Natascha cara, potresti spiegarci che cos'è l'Interporto di Furnitz e quali sono i vantaggi per gli imprenditori italiani? L'Interporto Furnitz, chiamato LCA Sud, è il polo logistico ed industriale della Carinzia ed offre un hub moderno ed internazionale che collega rapidamente strada e rotaia. È situato al centro della triplice frontiera fra Austria, Italia e Slovenia e nel punto di intersezione fra l'asse baltico-adriatico e l'asse dei Tauri. Su un'area di 160 ettari, LCA Sud offre alle imprese terreni commerciali a quali si aggiungono uffici e magazzini immediatamente disponibili. L'Interporto dispone di un container terminal, di un ufficio doganale ed è il secondo più grande scalo ferroviario dell'Austria. In loco si trovano anche circa 35 aziende di trasporto e logistica che possono offrire i loro servizi logistici ad imprenditori. Fra l'altro ci sono sia magazzini commerciali che magazzini doganali. Natascha, sappiamo che l'Interporto Furnitz intende creare un food hub per il mercato cinese. Potresti evidenziare quali aziende italiane potrebbero essere interessate a questo food hub e come lo stesso potrebbe facilitare l'esportazione verso la Cina? L'Interporto della Carinzia sta sviluppando questo progetto e si rivolge alle aziende della regione Alpe Adria, cioè dell'Italia, della Slovenia e dell'Austria. I nostri futuri clienti e partner sono aziende del settore alimentare, soprattutto produttori ma anche distributori. In questi paesi si trovano per lo più aziende PMI e tanti di loro non hanno le risorse umane, finanziarie e linguistiche per affrontare l'esportazione verso l'Asia. L'Alpe Adria Food Hub raggrupperà in linea di principio l'approvvigionamento, la commercializzazione e la logistica e vorrebbe diventare un intermediario fra i venditori dell'Alpe Adria e gli acquirenti cinesi. Ciò in quanto l'iter per l'esportazione in Cina è complesso. Intendiamo avviare un'agenzia di marketing che si occuperà di etichettatura, di contenuti design adeguati al mercato cinese, un'agenzia di consulenza per l'ottenimento di certificati necessari per l'esportazione verso la Cina, un centro di analisi, un'azienda per il repackaging, eccetera. Creeremo inoltre un marchio di qualità che faciliterà l'esportazione verso la Cina. Natascia, un altro aspetto importante su cui voglio rivolgerti una domanda riguarda le relazioni fra il vostro interporto e il porto di Trieste. Quali novità ci sono al riguardo? Fra l'ALCA Sud ed il porto di Trieste già da tanti anni vi è una forte collaborazione, anche perché il porto di Trieste necessita di partners nel hinterland, i cosiddetti dry ports. Per la vicinanza geografica fra i due partners, l'interporto di Furnitz dovrebbe diventare il dry port per il porto di Trieste. In questo momento stiamo anche collaborando in un progetto interrecca chiamato Smart Logi. L'obiettivo è la riduzione dell'impronta ecologica, il rumore ed emissioni gas a effetto serra, e cioè il modal split. Significa favorire il trasporto su ferrovia piuttosto che su gomma. Per arrivare a questi obiettivi bisogna migliorare le cooperazioni sia logistiche che digitali. Abbiamo anche in programma di creare poi un corridoio doganale, sia logistico che digitale, tra i due siti, per ridurre tempo e costi. La merce che arriverà su nave con destinazione a Austria viene subito messa su rotaia ed immediatamente trasportata a Furnitz. Natascia, da ultimo, se un'azienda italiana volesse insediarsi presso il vostro interporto, quali servizi potresti offrirle? Allora, alle imprese interessate a valutare un insediamento presso l'interporto, noi come agenzia della mano pubblica offriamo un servizio a 360 gradi, anche in lingua italiana. Il servizio consiste per esempio nella identificazione del sito adeguato, che possa essere un ufficio, un magazzino oppure anche un terreno. Forniamo poi informazioni per simulare un business plan, diamo una prima consulenza su eventuali contributi e coordiniamo poi anche tutto il processo finanziario, gli incontri con avvocati, commercialisti, banche, enti di promozione economica, fornitori ed altri partners. Coordiniamo tutte le procedure burocratiche per l'ottenimento dei vari permessi ed autorizzazioni. Assistiamo nella ricerca del personale, eccetera, e tutto gratuitamente. Ti ringrazio molto Natascia per la tua presenza e per le informazioni utilissime che ci hai fornito. Se voi avete domande specifiche sui temi trattati oggi, scrivetemi pure, come sempre sono a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni di cui necessitate sull'Austria. Un carissimo saluto a tutti e alla prossima puntata. Ciao Natascia! Ciao Enrica e grazie!